Babbo Natale è arrivato a Trigiano, il nonno più amato da adulti e bambini ha raggiunto piazza Vittorio Veneto a bordo di un treno in occasione dell'evento Santa Claus is Coming, organizzato dall'assessorato alla cultura e dall'associazione in piazza all'interno di Natalando, un'area attrezzata per far divertire i più piccoli. Ma anche un viaggio tra i profumi della tradizione con il buon cibo, la cioccolata calda e calda roste e ancora musica e mercatini per le famiglie. Una o due giorni per tornare a respirare l'area natalizia dopo il periodo buio delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Babbo Natale è stato accompagnato dagli zampognari di Trinitapoli e dal gruppo di pattinatori dell'ASD Aldomoro Trigiano. All'interno del villaggio anche un'esposizione di antico areato e manufatti natalizi degli artisti locali. Ad aggiungere atmosfera la contour band, mentre domenica in compagnia della One Beat Drumline, street band al femminile che fa danzare tutti al ritmo di percussioni. Ed è la Young Marching Band. Siamo molto contenti perché c'è una grande affluenza e siamo soprattutto contenti di esserci riappropriati di questa piazza che è stata deserta per fin troppo tempo. Oggi è piena, tutti quanti abbiamo richiamato rispetto delle norme, al fatto che tutti devono avere il Green Pass e sono certo che oggi e domani, soprattutto i bambini avranno il cuore pieno di gioia e questo riempie di gioia anche tutti gli adulti. San Nicola sta arrivando, Santa Claus, abbiamo scelto questo filo conduttore proprio per collegarci a quella che sarà la festa di San Nicola il 6 dicembre a Bari. Come ben sapete San Nicola è arrivato proprio a San Giorgio, quindi ex territorio di Trigiano. Per questo abbiamo voluto creare una sorta di vigilia che è quella della festa di San Nicola.